Un anno dall'alluvione che il 26 novembre 2022 sconvolse Casa Micciola, seminando distruzione e morte, in occasione dell'anniversario di un evento così funesto per la comunità isolana e casa micciolese, già precedentemente sconvolta dal terremoto dell'agosto 2017. La seconda puntata del programma di approfondimento Ultimo Round, condotto da Gaetano Ferrandino, sarà interamente dedicata all'anniversario che cadrà nella giornata di domenica. Una puntata con ospiti di assoluta eccellenza. Il dibattito vedrà protagonisti il commissario della ricostruzione Giovanni Legnini, il sindaco di Casa Micciola Giosi Ferrandino, il vicepresidente della regione Campania Fulvio a Bonavitacola e la dottoressa Simonetta Calcaterra, attuale commissario prefettizio del comune di Caevano e in precedenza commissario proprio a Casa Micciola dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto a fine giugno 2022. La puntata in onda in prima visione venerdì 24 novembre alle 21 sul canale 80 del Digitale Terrestre. Sarà anche l'occasione per fare il punto su quanto è stato fatto e cosa resta ancora da fare in un processo di ricostruzione che deve definire alcune questioni spinose, ma soprattutto ha bisogno adesso di una concreta accelerazione.